Il Consiglio regionale ha approvato con 22 voti favorevoli e 6 astensioni la prima legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023. Come ha spiegato il Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani illustrando l'atto in aula, la legge riguarda aggiustamenti tecnici di otto leggi regionali, tra cui il testo unico sul personale e la legge delle norme sul territorio. Come ogni anno il Consiglio regionale ha approvato la legge di manutenzione dell'ordinamento giuridico regionale, la legge con la quale vengono sistemate tutte le norme presenti nell'ordinamento regionale e cogliendo l'occasione per fare le interpretazioni autentiche delle leggi regionali laddove necessario o per arrivare agli adeguamenti delle disposizioni nazionali, comunitarie o regionali. Una legge che tocca vari aspetti, dalla disciplina del personale alla legge di stabilità del 2022 collegato alla legge di stabilità del 2018 fino ad arrivare anche alla legge urbanistica, la 65 del 2014. Mi piace evidenziare come il testo di questa legge di manutenzione sia estremamente semplice e snello e sia caratterizzato da norme che sono realmente di manutenzione dell'ordinamento senza reale carattere innovativo, nello spirito di una legge di manutenzione. Questo perché da tempo è invalsi una buona prassi tra il Governo e la Giunta regionale con la quale a fronte di potenziali impugnative di fronte alla Corte Costituzionale e di leggi regionali il Governo muove tutta una serie di osservazioni preliminari alla Giunta regionale e la Giunta regionale può impegnarsi ad andare a modificare queste disposizioni. Con ciò evitando l'impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale. Questo ha consentito di sgravare notevolmente le ipotesi nelle quali le leggi regionali vengono portate dinanzi alla Corte. Questo ha consentito anche oggi di arrivare ad una legge di manutenzione che è effettivamente piuttosto sintetica e ha un carattere esclusivamente di manutenzione senza alcun intervento forzato nel senso della innovazione dell'ordinamento esistente. Sulla PDL manutenzione che è sostanzialmente un'attività di ricognizione che viene fatta nell'ambito delle varie leggi regionali che necessitano di essere corrette in taluni punti. Si tratta di un atto meramente tecnico sul quale naturalmente spunti politici ce ne sono pochi. È chiaro che però la caratteristica di questa PDL è stata sostanzialmente di andare a correggere alcune storture, alcune disattenzioni che con forse una maggiore attenzione al momento della redazione del testo normativo avrebbero potuto essere evitate. Quindi sono diciamo però dei piccoli campanelli di allarme che naturalmente chiamano un po' in causa un approccio di maggiore qualità ed attenzione rispetto proprio alla tecnica della redazione dell'atto normativo che nulla spostano da un punto di vista sostanziale ma che naturalmente ecco di fronte a una legislazione regionale che comunque ha un valore importante anche da un punto di vista formale richiederebbe sicuramente un approccio diciamo meno disattento. Il Consiglio regionale ha affrontato il tema del fenomeno migratorio e dei minori non accompagnati attraverso due mozioni una presentata da Vincenzo Ceccarelli che è stata approvata e una da Elisa Tozzi che è stata respinta. La mozione approvata impegna la giunta regionale a intervenire nei confronti del governo per superare definitivamente le previsioni della legge Bossi-Fini attraverso l'implementazione di misure strutturali e l'istituzione di una rete di accoglienza diffusa. A noi abbiamo presentato una mozione che è stata approvata dove chiediamo che il tema dei migranti, dell'accoglienza soprattutto per quanto riguarda i minori che sono circa il 40% di quelli presenti in Toscana avvenga con una rivisitazione complessiva della normativa superando la legge Bossi-Fini che oramai è una legge molto datata e trovando delle soluzioni più avanzate che consentano di affrontare il fenomeno con umanità, con accoglienza dando una mano ai sindaci che si trovano poi a dover far fronte a questi fenomeni e alle persone che non trovando la possibilità di un'accoglienza magari sono portati anche a fare vagamondaggio o addirittura a delinquere. Quindi così come abbiamo detto no in passato ai CPR perché riteniamo che siano dei luoghi di scarsa umanità dove le persone finiscono per essere detenute senza avere le colpe per essere tali ci sembra che anche un grande hub regionale per quanto riguarda i minori ripercorra quella strada crediamo quindi che occorra invece puntare su un'accoglienza che coinvolga tutta la filiera istituzionale che certo riguardi le prefetture ma che riguardi e coinvolga anche le regioni, le amministrazioni comunali il terzo settore cioè tutti quelli che anche in linea con quella che è una caratteristica una tradizione di civiltà, di solidarietà e di accoglienza della Toscana possono affrontare il problema con un approccio che deve essere un approccio prima di tutti umano e poi anche solidario ecco perché occorre probabilmente da questo punto di vista il sollecito alla Giunta e al Presidente perché si attivi in sede di conferenza nei confronti del Governo per una rivisitazione della legge che consenta di poter gestire il fenomeno nella modalità con cui noi diciamo con maggiore umanità, con maggiore accoglienza superando la legge Bossi-Fini e anche quel famoso decreto che fu chiamato sicurezza del 2018 l'allora Ministro Salvini che superando il sistema SPLAR che coinvolgeva effettivamente invece gli antilocali l'associazionismo, il volontariato garantiva comunque una soluzione una gestione migliore di quella che è possibile oggi sostanzialmente noi chiedevamo di venire incontro a quelle che sono richieste che provengono ormai da diversi amministratori anche esponenti importanti parliamo del Sindaco di Firenze parliamo anche dell'assessore Funaro parliamo del Sindaco di Prato Biffoni tutti quanti uniti nel chiedere che sulla questione diciamo dei minori migranti si prenda una decisione ovvero che si metta in piedi almeno si comincia a ragionare davvero su un hub dedicato ai minori migranti che raccolga questi ragazzi e sostanzialmente consenta in qualche modo di gestire un fenomeno che in Toscana oggi vede circa un quarto delle presenze appunto di immigrati proprio formati da minori questa è una situazione naturalmente che desta anche nei cittadini una vera e propria sensazione di emergenza emergenza sociale, emergenza di accoglienza che a livello nazionale si è provato comunque a cercare di gestire attraverso appunto la dichiarazione dello stato di emergenza e la nomina di un commissario straordinario la questione in Toscana è esclusivamente politica cioè siamo partiti a gennaio con una richiesta precisa dopo il comitato per l'ordine della sicurezza che si è tenuto appunto il 13 gennaio oggi in consiglio regionale la maggioranza smentisce nuovamente se stessa dicendo no ad una precisa richiesta dei propri amministratori e sostanzialmente aggrappandosi ad una mozione che nulla dice nulla aggiunge, nulla toglie nel dare diciamo delle soluzioni oggi alla Toscana sarebbe richiesto uno sforzo in più su questo tipo diciamo di fenomeno siamo fermi ancora alle diatribe diciamo interne al Partito Democratico che impediscono un qualsiasi ragionamento produttivo su questa vicenda e tutto questo va a scapito naturalmente anche della sicurezza dei cittadini perché non dimentichiamo che d'altra parte chi è irregolare in questo Paese molto spesso alimenta anche la criminalità Sì, dispiace che ancora una volta di fronte a un tentativo a una proposta che arriva dalla collega Lisa Tozzi di provare a fare fronte a quella che è un'emergenza cioè la presenza di minori non accompagnati illegali presenti in Italia è un problema inutile dire che se lo affronti sei razzista e cattivo e ti devi girare dall'altra parte il problema esiste ci sono decine, centinaia di minorenni presenti in Italia non cittadini italiani non cittadini UE che illegalmente sono entrati sul nostro territorio la collega chiedeva semplicemente alla regione di attivarsi per pensare a una struttura non si menzionavano CPR non si menzionavano centri di espulsione struttura che in qualche maniera facesse fronte a questo problema no la Toscana proseguirà il suo sistema di accoglienza diffusa ebbene il Partito Democratico faccia pace con la propria coscienza perché non è dicendo no a qualsiasi proposta che si risolvano i problemi io non lo so se l'hub proposto dalla collega Tozzi potesse essere o no la risposta al problema è la presenza dei minori illegali sul territorio nazionale ma so una cosa che il sistema che continua a proporre la sinistra cioè quello dell'accoglienza diffusa ha fallito quello ha fallito perché è vent'anni che lo mettiamo in piedi ed è vent'anni che fallisce grazie a quel sistema di accoglienza diffusa ci sono oggi porzioni intere di città nelle quali non si può più passare e non è un'estremizzazione dei concetti a Firenze ci sono due o tre strade Firenze è una città fortunata in Italia perché ha soltanto due o tre strade nelle quali non si può più passare in certi orari del giorno e della notte ed è una città fortunata quel risultato lì è figlio del sistema messo in piedi negli ultimi trent'anni che ha fallito io non lo so se il CPR e il lab per i minori saranno la soluzione ma di sicuro so quello che non è e la soluzione c'è continuare in questo sistema qua quindi benvengano tutte le nuove sperimentazioni ovviamente la Toscana ne fa una battaglia ideale ne fa una battaglia ideologica ne fa una bandiera ideologica e continuiamo con il sistema di accoglienza diffusa che è un fallimento il consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione presentata dai consiglieri regionali Andrea Ulmi e Giovanni Galli che ha accolto alcuni emendamenti presentati dalla consigliera Donatella Spadi dove si chiede che i medici di emergenza urgenza vengano inquadrati nell'area di dipendenza del Servizio Sanitario Nazionale per non creare disparità di trattamento tra i medici convenzionati e quelli appartenenti a ruolo regionale chiamati a svolgere lo stesso tipo di lavoro l'atto chiede alla giunta regionale di attivarsi perché si arrivi al più presto all'unificazione del ruolo del medico di emergenza ma dunque noi abbiamo voluto focalizzare il punto che ci sono i medici di medicina di urgenza del territorio quindi il 118 che fanno lo stesso lavoro ma di fatto possono essere dipendenti oppure convenzionati questo comporta una grandissima differenza di trattamento perché tutte le tutele del lavoro dipendente agli altri ai medici convenzionati non ce l'hanno quando esistono delle delibere di questa regione della regione toscana ormai datate 15 anni che indicano nella dipendenza del sistema sanitario nazionale diciamo quella che dovrebbe essere la via percorsa per tutti coloro che si occupano del sistema nazionale allora è stata presentata dalla Lega una mozione sulla stabilizzazione sull'inquadramento dei medici dell'emergenza urgenza dei medici del 118 che sono convenzionati per appunto stabilizzarli e portarli alle dipendenze abbiamo presentato degli emendamenti che in un primo tempo non sono stati accettati ma gli emendamenti riguardavano semplicemente la regolarità dell'inquadramento e quindi rispondere agli articoli 97 e 117 della Costituzione italiana che prevede che il tutto venga fatto secondo leggi statali e in accordo con quelle che sono le leggi che l'Europa ci chiede poi ovviamente anche noi siamo più che favorevoli alla stabilizzazione per questo erano stati emendati ma per fortuna dopo gli emendamenti sono stati accettati e quindi noi abbiamo votato favorevolmente anche perché questi medici dell'emergenza urgenza io peraltro sono un medico dell'emergenza urgenza prima che consigliere regionale e quindi so perfettamente cosa vuol dire essere convenzionato e essere dipendente la regione ha già fatto in passato stabilizzazioni o assicurazioni sia dall'assessore che dal direttore dell'assessorato Celli che verranno fatti successivamente stabilizzazioni non appena sarà possibile secondo quelle che sono le leggi statali non è un rimando ma ovviamente le cose devono essere fatte secondo delle regole ben precise e noi siamo i primi che dobbiamo rispettare sicuramente le leggi statali ed europee perché facciamo parte dell'Europa i medici devono essere stabilizzati con l'anzianità che loro hanno maturato ovviamente perché poi prestano opera all'interno delle nostre ASL e ovviamente questo sarà poi per loro opera di tutele maggiori per quanto riguarda soprattutto le ferie permessi lavorativi 104 e quant'altro mentre vorrei dire che per quanto riguarda la tutela legale già adesso grazie alla legge Gelli Bianchi coloro che prestano opera che sono convenzionati con le aziende sanitarie sono invece parificati a dei dipendenti quindi hanno le stesse tutele legali a dei dipendenti a dei dipendenti Grazie.